attenzione più dell 80 per cento di voi guarda i miei video ma non è iscritto quindi fate un gesto iscrivetevi così cresce il canale e in futuro potranno esserci ancora più video ancora più contenuti così da divertire di più buona visione una preghiera a tutte quelle zone colpite dall'alluvione questa partita è anche per voi dal terni di sanomano in garfagnana seconda giornata del girone d2 della coppa provinciale terza categoria tra new team e filicaia diamoni rossi il new team sg in tenuta bianco e blu la sua formazione è questa bertoncini in porta con uno poi satti penucci cristian sanne fontana tene manuele frigere landucci lorenzetti penucci mattia morelli in panchina valdreghi damazzi c'è 6 franchini tene alessio mariani e chiliacò mister simone lezzoli per il filicaia diavoli rossi in porta con numero 6 alessio rossi poi vecchi valienzi gemma bartolomei buriani cavani grandini lunghi frizzo daniele micchi in panchina puppa satti pellegrini stilezzi tritti donate magnani premista e gabriele zudas da notare l'arbitro il signor bartolomeo i terni della sezione di lucca molti terni in questa giornata tra poco l'inizio del match ci siamo inizia ora allora mattia penucci ancora prova ad appoggiarsi a sanne tacco molto bello attenzione morelli morelli da limite morelli al top primo squilla da new team vecchi frizzo frizzo da lontano bell'idea va cristian penucci col mancino palla dentro l'anducci di testa ma para rossi ancora calcio d'angolo ma mi sembrava un palo essere un palo di new team volta la barriera del filicaia torna anche micchi allora va invece no morelli finta allora lorenzetti con il destro fuori sanne frizzo ce la fa rubarla l'attenzione contro piede per il filicaia frizzo 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 prova ad avanzare col mancino fuori di poco micchi contro mariani micchi vince lo scontro prova a cercare frizzo l'anducci chiude l'anducci prova a innescarsi da solo grandini attenzione non si capisce con rossi non l'anducci da solo rossi mette in angolo lancio lungo attenzione morelli scontro vecchi ancora lotta la palla rimane ancora lì morelli con questa palla prova a saltare rossi che fa una grande intervento ennesima occasione pericolosa per il new team ora ottima idea per il numero 19 cavani cavani cross dentro attenzione frizzo azione clamorosa per i filicaia morelli prova a cercare pennucci petto la palla rimane ancora lì l'abito non c'è nulla molto bravo pennucci a uscire dalla gabbia penucci in aria prova col mancino rossi gran parata attenzione clicaia davanti a portina attenzione il tiro fuori lenzi occasione clamorosa butta fuori mancano cinque minuti per recuperare alla fine lungo gemma per triti attenzione lunghi al limite col mancino per toncini risponde attenzione ancora numero 19 prova ad avanzare filicaia cross dentro attenzione triti vicino al gol arriva pennucci cross dentro attenzione carica sul portiere e finisce qui 0 a 0 filicaia viene eliminato e il new team dovrà vincere fuori casa per andare in semifinale un saluto da Gianmarco Vettei alla prossima grazie a tutti